Buongiorno a tutti, noi abbiamo una visione molto chiara, noi vogliamo creare un luogo bello dove poter vivere insieme emozioni positive. Quindi creiamo un'atmosfera che è composta di tanti piccoli dettagli che vanno dal menu, vanno all'arredamento, vanno dal giardino, dalle piante, vanno dall'esperienza che si possono vivere qui da noi. Il bello e l'esperienza sono la chiave del nostro lavoro, sono la nostra visione e cerchiamo di, per quanto possibile, costruirla e poterla comunicare ai nostri ospiti. In questo ambito qui abbiamo l'anno scorso fatto tutto un lavoro di manutenzione straordinaria, quindi abbiamo cambiato i colori, li abbiamo resi in linea con quelli che sono i colori del comune di Urbino, che ha una tabella colori relativamente alle strutture, relativamente agli infissi. Abbiamo installato un impianto fotovoltaico in modo da essere indipendente dal punto di vista energetico, rinnovato gli arredamenti, rinnovato tutti i servizi che erano a disposizione degli appartamenti. E quindi abbiamo anche riqualificato la struttura dal punto di vista del menù offerta al ristorante. Quindi abbiamo mantenuto quelli che erano i piatti tradizionali, ma nel contempo abbiamo cominciato a dare delle novità, novità che permettessero agli ospiti di fare sempre delle esperienze nuove. Quindi sempre legate alla tradizione, ma anche con un occhio al rinnovamento, al cambiamento, specialmente per i giovani. L'anno, la stagione che si sta chiudendo è stata una stagione dura, difficile per via del coronavirus, ma nonostante tutto noi abbiamo lavorato bene. Abbiamo messo a norma la struttura per quello che riguarda le misure anti-covid, anzi siamo andati anche oltre, perché abbiamo ad esempio un sistema ad ozono che viene utilizzato per sanificare tutti gli appartamenti, che è oltre praticamente quello che prevede la norma. E su questo siamo stati premiati, quindi soprattutto da turisti italiani. Abbiamo avuto stranieri, ma veramente pochi, contrariamente a quello che accadeva fino all'anno scorso. Dal punto di vista funzionale, noi abbiamo un grosso problema che è quello relativo alla strada, all'accesso alla struttura. La strada purtroppo è suddivisa fra due comuni, il comune di Vallefogli e il comune di Urbino. In particolare il tratto del comune di Urbino è molto rovinato, il pezzo finale. I comuni si stanno dando da fare e hanno promesso che entro ottobre la parte finale del comune di Urbino verrà sistemata e entro primavera dovrebbero asfaltare anche questa parte finale. La parte iniziale, quella sui comuni di Vallefogli è sempre stata manutenuta abbastanza bene, però oggi la situazione è veramente problematica. Noi abbiamo avuto diverse famiglie quest'estate che sono arrivate e sono andate via a causa della strada. Hanno cancellato la prenotazione e non hanno potuto fare niente, avevano macchine basse che toccavano oppure anche persone anziane, facevano fatica a guidare. Abbiamo anche difficoltà con le cerimonie perché la strada è veramente rovinata e quindi se bisogna pensare a un matrimonio, magari a una macchina storica che accompagna la sposa, cose di questo genere qui, non riusciamo a farlo. Quindi abbiamo veramente bisogno che questa cosa venga sistemata perché si sta veramente danneggiando.